Riflessione, impegno, lucidità di analisi e lungimiranza. Questi, secondo la Commissione diocesana per i problemi sociali e del lavoro, gli strumenti attraverso i quali celebrare il primo maggio. Una festa del lavoro, quest'anno certamente particolare, che però a detta della Commissione non può disgiungere persona e famiglia, alla luce dei principi e valori evangelici, in grado di fecondare e fermentare la società senza sminuire la dignità della gente. La rinascita, sempre secondo la Commissione, dovrà dunque tutelare l'imprenditorialità che crea lavoro e le garanzie di sicurezza negli ambienti di lavoro, senza baratti al ribasso sui diritti e la dignità delle persone. Trieste, in un simile contesto, appare indebolita. Per questo, è opinione della Commissione, consolidare gli sforzi di chi reagisce ad una situazione complessa attraverso l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo delle infrastrutture è basilare. E dopo questo periodo, crisi del turismo, chi usura aria a caldo della ferriera con la cassa integrazione per i lavoratori, sarà doveroso ricreare le condizioni di lavoro e di reddito, accantonando le faziosità che spesso caratterizzano la nostra città. Il bene comune dei cittadini e una vita dignitosa, come auspicati dal Papa, si ottengono salvaguardando i diritti e i doveri della persona e della famiglia, che trovano proprio nel lavoro un processo di sviluppo per entrambi, giacché, come diceva Giovanni Paolo II, la disoccupazione depaupera la doverosa realizzazione delle persone e delle famiglie.